Claudio Romagnoli, direttore tecnico, capo allenatore della Canottieri Varese, il costitutivo di questo 2023 per la società a livello agonistico è notevole e, spiegava prima in conferenza stampa, avete avvicinato con i risultati anche l'altissimo livello organizzativo che da tanti anni contraddistingue il vostro club. Come avete lavorato in questi ultimi mesi? Abbiamo lavorato, secondo me, con criterio, cercando di far capire a questi ragazzi volontierosi che hanno dedicato il loro tempo giornaliero al canottaggio, perché amano il canottaggio, un canottaggio di piacevolezza, di confronto e di amare il lago. Questo è l'obiettivo primario e soprattutto confrontarsi tra di loro in maniera tale poi di confrontarsi anche a livello nazionale e internazionale ad alti livelli. Stanno arrivando delle medaglie nazionali sicuramente, ma appunto, come dice lei, anche a livelli superiori. Qual è l'obiettivo a lungo termine della squadra agonistica della Canottieri Varese? L'obiettivo è, quest'anno abbiamo vinto tre campionati del mondo, uno assoluto e due junior. È sempre migliorarsi, far crescere questi ragazzi e cercare, naturalmente, il sogno è sempre alto, un'atleta della casa di Varese, quindi di Varese, di poter andare all'Olimpiadi. Ecco, l'esempio l'avete in casa con Pierpaolo Frattini, che credo sia stato l'ultimo varesino nell'Olimpiade del canottaggio. L'obiettivo ancora, mi ripeto, è quello del 2028, di Los Angeles. Abbiamo una squadra giovani, però vi ho sempre puntato alto. Questi ragazzi si dedicano tutti i giorni, quotidianamente, con passione, con amore, con dedizione a questo bellissimo sport. Abbiamo una grande società come Canottieri Varese, con grandi attrezzature, abbiamo la fortuna di avere un lago, uno fra i migliori campi di allenamento al mondo, e quindi dobbiamo solo lavorare bene, dare opportunità a questi atleti di poter crescere e di confrontarsi col mondo.